Presento 73 club della Campania con 2750 soci. Oggi siamo nell'area salernitana che è molto ben rappresentata dal punto di vista rotariano. I Rotary si sono visti insieme per andare avanti su un'iniziativa che li aveva già visti insieme. Oggi si aggiungono altri di questi strumenti che sono semplici ma molto efficaci per tutelare l'acqua e rimuovere la plastica. Deve sapere che la nostra Rotary Foundation, che è il nostro braccio operativo finanziario, dal primo luglio all'anno scorso ha istituito la settima area prioritaria, la salvaguardia ambientale. E sulla base di questo stiamo sviluppando una serie di progetti. Oggi l'area dei club salernitani, 5 club salernitani, hanno messo in campo altri 6 Sibin in questo progetto Nereus. I Sibin sono gli strumenti dei cestini praticamente gestiti dai moli che consentono il recupero delle macro ma soprattutto delle microplastiche. Perché quando una plastica grande, una macroplastica si distrugge, si verificano queste microplastiche. Questi cestini hanno la grande capacità anche di raccogliere queste microplastiche evitando che vadano nella catena alimentare.